ciao a tutti oggi prepareremo le uova e piselli cotte a baroma il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa ingredienti sono acqua pisellini uova pepe sale scalogno olio eventualmente la pancetta diamo il via alla ricetta mettiamo nel boccale lo scalogno e lo dritiamo per cinque secondi a velocità 7 teniamo sul fondo del boccale lo scalogno adesso versiamo l'olio facciamo insaporire tre minuti 120 gradi velocità 3 con la spatola freniamo sul fondo del boccale lo scalogno adesso aggiungere i piselli la pancetta è facoltativa noi aggiungiamo però voi potete anche non metterla il sale il pepe e facciamo insaporire per altri due minuti 100 gradi anti orario velocità 1 adesso dal foro del coperchio andiamo a versare una dose dell'acqua 150 grammi nel nostro caso e proseguiamo la cottura 10 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 adesso andiamo a mettere da parte in una ciotola dover messo da parte i piselli della nostra pancetta senza lavare il boccale andiamo a versare il resto dell'acqua ci servirà per cucinare le uova andiamo a chiudere con il coperchio senza il misurino e adesso andremo a utilizzare il varoma nel quale abbiamo messo un foglio di carta da forno bagnato e strizzato andiamo ad aprire le nostre uova adesso andiamo a posizione andiamo a posizionare i piselli andiamo a mettere un po' di sale sopra e del pepe nero posizioniamo il varoma sopra il coperchio chiudiamo e facciamo cuocere per 15-20 minuti temperatura varoma velocità 1 le nostre uova sono cotte andiamo a infiattare uova e piselli al varoma grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta